Buon, fammi un po' vedere. Che dici? Perché questo fa molto... un po' verdone, no? Quello che vanno a fare le selezioni del film e dicono, c'è la faccia troppo da buono, non te vi chiamo. Da buono, ma come vedi? Questa è stata l'anaconda, questa è una... Una capocciata, pezzo. Quanto erano? 28? Quanto erano? 31. Erano 31, avevamo gli articoli. Però a puntata stiamo... ora che c'è l'ambulanza stiamo tranquilli. Se c'è stava 15 anni fa era meglio. C'è sempre chi sta peggio. Morto, peggio. Se c'è stava 15 anni fa, tu zio forse la raccontava. Ma la capocciata l'hai dato? No, l'ho presa. Fammi vedere Rambù. Tu, Rambù. A chi go? Sei orgoglioso, a chi go? Guarda che dottoressa che c'hai... Se sei venuto apposta, dottoressa, hai fatto danno a capocciata apposta. Perché sapeva che c'è stavidee a lavorare, dottore. In realtà non c'è... è finta, è col pennarello, dottore. Eh, certo. Abbiamo chiesto i turni, no? E Giorgio ha saputo e... Sono voluto venire. Sì, la mia nemica ha giocato la cacchetta, è finta. Secondo me sto male. Direi che c'hai dei peggio. Direi che quest'ambulanza purtroppo non ha visto dei peggio. Comunque, nel dubbio, non famo gli eroi. Piamo, namo. Loro sono bravissimi. Secondo me sto male. E viva la vita. Viva la vita. Tutta la vita. È bella per te. Bella, dottore. La dottore si sta lavorando adesso. Jessica. 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 E dove sta, Kevin? Tu, mio, Kevin, dove sta? Jessica.